Due settimane di grande tennis a Cantù scatterà domani e si chiuderà il 2 ottobre sui campi veloci del Circolo di Corso Europa la quarta edizione del torneo Open Cassa Rurale Artigiana Cantù. Una manifestazione che vanta già oltre 160 iscritti, un tabellone maschile e uno femminile e la presenza di molti atleti compresi nel Giro delle Nazionali Giovanili. Abbiamo il piacere di avere tra i nostri iscritti due ragazzi del nostro territorio che ultimamente ci hanno dato molto soddisfazione. Sono Federico Arnaboldi campione italiano under 16 e Lorenzo Rottoli vice campione italiano under 14 e campione italiano di doppio under 14 e anche nel femminile boom di iscrizioni e anche qui avremo delle grosse sorprese sicuramente possono uscire la presenza di Giulia Susarello e per quanto riguarda il nostro vivaio di Maria Oreglia Scotti. Non mancheranno poi i nomi di primo piano del panorama tennistico di seconda categoria tra cui Andrea Bergomi figlio dell'ex calciatore dell'Inter. Questa struttura sta facendo crescere molti giovani e la città stessa ha sottolineato quest'oggi alla presentazione dell'evento l'assessore allo sport del comune di Cantù Luca Delfinetti. Si inizia domani con i primi tabelloni di quarta categoria, per la seconda categoria le iscrizioni restano aperte fino a giovedì. La presentazione del torneo ha permesso di puntare i riflettori su uno sport che ad oggi totalizza 328.000 tesserati in Italia di cui 49.000 circa in Lombardia, numeri forniti dalla FIT e la Federazione Italiana Tennis. Il circolo di Cantù conta 130 soci e 150 ragazzi iscritti alla scuola. Tanti ragazzi si approcciano a questo sport, è uno sport completo, si può iniziare presto e pensate che nei circoli giocano a tardissima età per cui ci si può divertire praticamente per tutta la vita. Abbiamo una buona tradizione e non lo considero assolutamente uno sport minore né per numeri né per bellezza.